Musica Oggi hanno giurato i 21 agenti di polizia municipale, maggior sicurezza, maggiori servizi sul territorio per una città più sicura. Musica Ottenisce solidità e prestigio adottiere una cerimonia di giuramento degli agenti di polizia municipale della Sù. Era giusto oggi accogliere in maniera formale, nel massimo della formalità, il giuramento di voi, i 21 agenti. Azzurro! Ura! 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 Azzurro!